Amici sportivi buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Roberto Picco di Trino. 26esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Si affrontano LG Trino e Pondonnaz. Calcio d'inizio battuto da Bottino indietro per Didu. Subito a lancio lungo la palla per Soncini raccoglie la difesa del Pondonnaz. Il Pondonnaz in avanti sull'out di destra, il pallone in mezzo, tiro cross e la palla finisce in rete. Il gol di Garbini. È stato ingannato Rainero dalla traiettoria che alla fine non è stata deviata da nessuno. Il Pondonnaz è subito in vantaggio. Didu. La palla in mezzo, Grillo la rimette dentro. Soncini il colpo di testa, la parata di Celesia. Attenzione. Attenzione, davanti al portiere il pallonetto che esce di pochissimo. Occasionissima per Garbini. Il cross in mezzo per Montari. Montari è la parata di Rainero con i piedi. Ancora Garbini al volo, ribattuta da Caffasso. Attenzione, il tiro di Bonell. Smorzato. L'ha colpita male il numero 7 del Pondonnaz. Mullici, Mullici difende il pallone. La mette in mezzo. Allontana la difesa. Va a lottare di testa Cambò. Il colpo di testa e la parata di Celesia. Porta su Scala, Scala. Attenzione, allarga bene dalle parti di Garbini. Attenzione, la palla in mezzo. Ancora per Scala il piattone. La parata di Rainero con i piedi prontissimo di riflessi. Ancora disponibile il sinistro. La parata di Rainero che mette in calcio d'angolo. Il pallone è allargato dalle parti di Scala. Scala. Uno contro uno con Nicolasi. Scala. Scala, le finte. Se ne va. Trova il momento per mettere il pallone in mezzo. Attenzione, il pallone resta lì. Il tiro e la parata di Rainero. Soncini. Attenzione, la spolla. Soncini, Soncini sulla davanti al portiere. Soncini si divora il gol dell'1-1. Bellissima la sponda di Cambo. 1-2 nello stretto. C'è il cartellino rosso per Borettaz. Doppio giallo. E finisce qui. Il Pondonnaz batte per 1-0 il trino. Decide la rete nei minuti iniziali del primo tempo di Garbini. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Un saluto e alla prossima.